Non sappiamo dove arriviamo, però stiamo lavorando bene per arrivare il più alto possibile, è quello che dobbiamo fare. Qual è il trucco? Siete sereni, tranquilli, affrontate ormai ogni partito, ogni tre giorni con la stessa testa, con lo stesso approccio. Sì, dobbiamo essere così, dobbiamo essere concentrati, lavorare bene sulla settimana per arrivare bene per la partita. Tu che momento stai vivendo, a livello nazionale? Perché sei tornato, però sembri ancora un po' con il freno a mano tirato, giochi pensando molto, sembra un po' così. No, non è facile tornare subito la forma, però stiamo facendo tutto con l'aiuto della squadra, stiamo lavorando e sono contento, però non sono a 100% come ho detto voi, però arriva poco, manca poco. Senti, l'obiettivo a questo punto è entrare necessariamente nelle prime quattro, stare nelle prime quattro, ormai siete terzi, insomma. Sì, è quello che vogliamo, siamo potenti per la testa di lì. Altre domande? Grazie. Grazie.